Sono Alessandro Abbianti e sono il responsabile per quanto riguarda la domotica e la sicurezza aperte con l'impresa Asobel. Siamo stati qui ospiti e collaboratori di Smart Environment perché noi da anni cerchiamo un'integrazione fra il mondo della smart home, il target privilegiato degli installatori e della distribuzione specializzata con il mondo della system integration. Sicuramente quello che è andato è proprio questa confusione, era stata una confusione creativa nel senso che se i mondi sono integrati nei fatti allora lo devono essere anche in queste occasioni. Io quindi trovo positivo che ci sia stata fluidità fra le due partecipazioni e questo significa anche che vi è una fluidità nel mercato. Noi dobbiamo fare quello che fuori il mercato ci suggerisce e ci chiede di fare. Riteniamo che questo format sia stato utile, sia stato interessante e ha creato un'effettiva convergenza fra due mondi che hanno nella distribuzione e nei clienti e nelle aziende il loro punto di congiunzione e la nostra idea è quella di replicare nel più breve tempo possibile. Il nostro target e i nostri partecipanti sono stati sicuramente incuriositi e in parte attratti. Naturalmente loro vengono dall'esperienza di base mentre l'assistema integration è un percorso di evoluzione ma noi vogliamo accompagnarli proprio in questo percorso di evoluzione per cui è una mano tesa che cercheranno di prendere. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS